Sì, beh, fanno sempre piacere i complimenti, poi da Xavier Jacobelli, insomma, ancora di più. Il segno che hai dato tanto in questa Serie A, hai dato tanto al Benevento. Io, ecco, l'azione da cui è scaturito il gol di Diabatè la lascio ad Antonio dopo. Prima io ho detto fiera di essere Beneventana. Tu che dici? Certo, la stessa cosa la penso anche io. Innanzitutto voglio ringraziare le parole di Aver e poi, come seconda cosa, il pubblico Beneventano oggi è stato spettacolare. Non ho mai visto una squadra retrocessa all'ultima partita in casa ad avere un pubblico così magnifico. E li voglio ringraziare e ci hanno dato la mano anche oggi, soprattutto con la loro spinta. Allora, sì, l'altra domanda, io l'avevo lasciata ad Antonio, te la faccio ugualmente io. Quanta energia, quanta cattiveria ci hai messo per portare avanti quel pallone? Ne hai scartati tre, alla fine hai messo questo cioccolatino così delizioso a Diabatè che non poteva sbagliare. Quanto volevi dargli quell'assist? Quanto volevate regalare questa vittoria ad un pubblico strepitoso? Penso che l'abbiamo dimostrato tutti la squadra. Ci tenavamo dal mister a tutti a vincere oggi e a dare l'ultima gioia a questi magnifici tifosi. Quando ho preso palla ho visto il campo tutto a lungo avanti a me e ho detto che devo andare in porta. Una volta arrivato lì ho visto che c'erano due miei compagni dietro, ho passato la palla e ho sperato che uno dei due facesse gol. Così è stato e sono felicissimo sia per Diabatè che per me che ho fatto un grande assist. Per me ad occhi chiusi, non ci stavamo paragone. Secondo me potevamo salvarci e fare anche un grande campionato, non solo non stare ancora lì a combattere. Per me già eravamo salvi. Nel mio futuro dico sempre la stessa cosa, per ora non sto pensando a nulla, voglio solo finire questo campionato nei migliori dei modi e magari o fare gol o fare un'altra grande partita la prossima perché voglio finire nei migliori dei modi. Questa è una cosa che mi tengo da piccolo dentro, è sempre stata la mia forza la fame perché se da piccolo giocavo con i miei amici e perdevo io impazzivo, non giocavo più per una settimana con loro. Quindi è una cosa mia che per me non la leverò mai. e continuerò a lottare ogni partita, ogni anno per qualunque squadra. Dove starò? Lui è un fenomeno, magari arriverò ai suoi livelli. Lavoro e magari arriverò. Grazie, spero di... Io continuo a lavorare giorno dopo giorno e magari arriverò ai livelli di insignia, di tutti i fenomeni. Hai detto voglio giocarmi l'ultima partita alla grande, non pensare più a nulla, ma ecco la squadra, il gruppo, come sta vivendo questo momento? Parlavi prima di rammarico, tanto rammarico, ma cosa vi dite? Cosa state vivendo? E come andrete a Verona? Andiamo a Verona per vincere perché siamo messi in testa tutti la squadra di continuare a far bene fino alla fine e di non mollare niente. Quindi sicuramente andremo a Verona per fare la nostra partita come ne stiamo facendo le ultime. E niente, noi continueremo a dare il massimo e speriamo di vincerlo anche lì. Grazie. Prego.